E noi torniamo a parlare di politica con un ospite che è Emiliano Liuzzi del Fatto Quotidiano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Dunque al centro del dibattito ancora l'agibilità politica di Silvio Berlusconi. Oggi l'abbiamo detto nel pomeriggio in riunione ad Arcore con un PDL spaccato fra Falchi e Colombe. Secondo te quale sarà la decisione finale del Cavaliere? Che linea prevarrà? Forse quella dell'amnistia mi sembra la richiesta più praticabile. La grazia non credo che sia in nessun modo possibile e nemmeno risolutiva da certi punti di vista. L'amnistia era sul tavolo da tempo, ci sono due ministri che la difendono, che non solo la difendono, ma la propongono loro stessi. Mi riferisco a Mauro e Cancellieri. Credo che per il PDL sia l'unica strada possibile. Non credo molto alla divisione Falchi e Colombe. In questi casi il PDL è sempre molto unito attorno a Berlusconi, perché senza Berlusconi il PDL è veramente quasi niente come partito. Più seria mi sembra la spaccatura all'interno del PD, dove abbiamo sentito ieri attraverso il Fatto Quotidiano cosa ha detto le parole di D'Alema, soprattutto per quello che riguarda Letta, che è molto irritato rispetto a quello che ha detto D'Alema. Renzi è tornato dagli Stati Uniti, è pronto a un nuovo tour per le feste dell'unità. La situazione non è molto limpida nemmeno all'interno del PD. Io prevedo che entro due o tre giorni rimetteranno quelli del Partito Democratico sul tavolo la carta Grillo. La carta Grillo vuol dire tentare di portare dalla loro parte una serie di senatori che all'alleanza col PD comunque in parte hanno sempre creduto. Credo che sia una delle strategie possibili. Quindi mescolare un po' le carte in tavola. Mescolare un po' le carte in tavola come era successo, come aveva fatto Berzani a marzo, come accadrà sicuramente la prossima settimana. È molto prevedibile e noiosa la politica italiana da questo punto di vista. Tu escludi la possibilità di un affidamento ai servizi sociali, un'altra ipotesi di cui si parla? Io non credo che Berlusconi, non la escludo perché quello è condannato e quello dovrebbe fare. Però credo che fino alla fine Berlusconi la combatterà questa ipotesi. Non è possibile per lui, per la figura che si è costruita attorno in questi vent'anni, per quello che non ha fatto più che quello che ha fatto, finire ai servizi sociali vorrebbe dire finire ingloriosamente tutto quello che invece erano i suoi sogni di gloria. E l'ipotesi che Berlusconi possa fare come Grillo, cioè il leader fuori dalle aule parlamentari? Questo è possibile, però sulle spalle l'affidamento ai servizi sociali diventa con i fari puntati. Molti politici hanno in passato, soprattutto ai tempi di mani pulite, tutti sono passati dall'affidamento ai servizi sociali. Quasi quasi non ce ne siamo accorti, nel senso che poi erano condanne che passavano dopo due o tre anni in giudicato e così andava a finire. I fari su Berlusconi sono accesi e per lui vorrebbe dire la fine di vent'anni, che sono iniziati dal momento della conferma della condanna. È ovvio però che lui non la combatta fino alla fine, questa ipotesi è da escludere. Poi ha due alleati in questo, uno è napolitano, l'altro in parte lo è letta perché tiene in piedi una maggioranza di governo che senza il PDL oggi non ci sarebbe. Ecco, invece a proposito della decadenza di Berlusconi, secondo te il PDL potrebbe allungare, riuscire ad allungare i tempi del voto in giunta? Sì, assolutamente sì, è già successo quando fu per Previti, passarono 14 mesi e la decadenza arrivò perché prima che arrivasse la decadenza Previti si dimise, non ce lo dimentichiamo. Non è immediata, il 9 settembre non succederà assolutamente niente. È chiaro che comincerà un gioco per allungare i tempi e anche questa è una carta, forse l'ultima carta, che Berlusconi può giocarsi. Però pensare che il 9 settembre sia il giorno cruciale del futuro politico di questo Paese è sbagliato. Sicuramente si andrà l'anno prossimo e sicuramente le elezioni anticipate sono in concomitanza con le elezioni europee. Se ci saranno delle elezioni, questo Paese non può prescindere da quella data, cioè che è il maggio 2014. Queste sono le elezioni anticipate, non esiste un voto prima. A proposito di elezioni, secondo le discrezioni Berlusconi avrebbe commissionato alcuni sondaggi su uno scontro che lo veda contrapposto a Renzi o a Letta. Secondo te la leadership a sinistra si gioca proprio fra Renzi e Letta? Credo di sì, credo che a questo punto si giochi fra Renzi e Letta. Il punto è come decide il partito al proprio interno, cioè quale sarà il meccanismo, sempre che poi ci siano, il meccanismo delle primarie. Se per le primarie votano solo gli iscritti al PD Renzi a vita dura, se sono allargate è chiaro che la popolarità del sindaco di Firenze, e lo abbiamo visto anche prima che partisse per le ferie, alle feste dell'unità dove è andato in Emilia Romagna, Renzi raccoglieva due o tre mila persone, nelle stesse feste dell'unità il giorno prima, per Epifani ce ne erano dieci. Questa è la realtà, questa è la popolarità di cui gode il sindaco di Firenze, che riesce a raccogliere anche un elettorato che non è strettamente quello del PD. Quindi diversa invece la situazione di Letta, che si gioca delle carte politicamente corrette, è andato al meeting di Rimini per cercare anche all'interno del meeting l'appoggio di CL, che in questo paese non è una cosa indifferente. E ha sottolineato quanto fatto finora dal suo governo. Noi ti ringraziamo, ringraziamo il nostro ospite, Emiliano Liuzzi del Fatto Quotidiano. Grazie. Grazie a voi.